Il promontore anticiclonico presente sull'Europa occidentale si va spingendo fin sulla Scandinavia e richiama una massa di aria fredda dalla Russia, quindi queste correnti dal nord-est entreranno nella nostra regione nella notte tra venerdì e sabato. Per la nostra regione per sabato provvediamo tempo bello, con cielo promettamente sereno e poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Soffierà bora forte sulla costa con raffiche fino a 100-110 km all'ora, bora moderata in pianura, venti sostenuti da nord o nord-est anche in quota in montagna con qualche raffica fino a fondo valle. Le temperature scenderanno decisamente, specialmente le massime, che non supereranno i 10 gradi né in pianura né sulla costa. Per domenica ancora bel tempo, con cielo prevalentemente sereno tranne il passaggio di qualche leggera velatura. Soffierà ancora un po' di bora moderata sulla costa, in particolare al mattino e poi di nuovo in serata. Sarà ancora una giornata piuttosto fresca, anche se temperature massime risaliranno di un paio di gradi. Le minime invece in pianura, in particolare nelle località dove non soffierà il vento, scenderanno decisamente sotto zero, quindi con valori attorno ai meno 3, meno 4, localmente anche meno 5 gradi in pianura. Lunedì ancora bella giornata, rimonta l'anticiclone di nuovo sull'Europa e quindi anche sull'Italia. Avremo di nuovo un'altra settimana di bel tempo, cielo che rimarrà prevalentemente sereno con qualche velatura lunedì, forse anche martedì. La bora scemerà e anche le temperature torneranno a risalire. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto.